Benvenuti al programma della tecnica presentato per Wolfgang Rudolf. Il primo strumento che le voglio presentare è il PCE HT71. Come può osservare, si tratta di uno strumento piccolo. Ha incorporata una batteria a litio che può sostituire e che può durare un anno. Ciò dipenderà dalla frequenza di utilizzo. Dispone di una memoria EEPROM. Vale a dire che se la pila scarica o viene sostituita, non si perdono i dati registrati. Posso registrare fino a 16.000 gruppi di dati. Questo vuol dire che misura l'umidità relativa in un range tra 0 e il 100%. E la temperatura in un range da meno 40 a oltre 70 gradi. Dispone anche di data e ora, con una precisione di più o meno 3 secondi al mese. E tutto ciò si può assegnare ad un gruppo di dati. Bene. Normalmente questo strumento si imposta dal computer. Dico quando comincia e dico quando finisce di registrare. Qui può vedere i led di controllo. Normalmente sono disattivati per risparmiare energia. Con questo tasto si utilizza questo apparecchio integrato. Anche se ovviamente è molto più comodo effettuare le impostazioni tramite computer. Adesso colleggo lo strumento al PC. Il software contenuto in un CD l'ho già installato. Il mio PC ha riconosciuto il dispositivo. Il software è già attivato. Se scarico e lecco i dati, come può osservare, ecco come si vede. Ho diversi parametri. Ho qui la linea rossa. Questa è la temperatura. Ho anche l'umidità relativa. Questa è la linea gialla. Come può notare è aumentata gradualmente. Vedo anche il punto di ruggiata. Questo si calcola perché non si può misurare come tale. Il calcolo lo fa il software. Lo vede qui con la linea verde. E qui sotto abbiamo data e ora, che ho già menzionato prima. Quindi ho per ogni misura la data, cosa che consente di fare un monitoraggio. Posso impostare la frequenza di campionamento da 2 secondi fino a 24 ore. Cioè una misura ogni giorno o una ogni 2 secondi. O in qualsiasi altro tempo intermedio. È più che sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. E dato che la batteria può durare anche un anno, si può utilizzare lo strumento in modo autonomo. Il supporto è incluso. Lo può attaccare o avvittare. Lo può attaccare a una parete. E potrà avere un controllo continuo dei suoi prodotti. Non importa se si tratta di alimenti o di qualsiasi altro materiale che richieda condizioni ambientali specifiche. Se le condizioni di stoccaccio non sono quelle idonee e lo si rileva per tempo, si possono prendere le necessarie contromissure. Non pena per sensibilità che sengono spiegati una parte. Whiche è la condizioni di stessa. Il problema è il problema. Non né la contizioni. Quali dov'è? Per il problema è in qualsiasi altro. Le 50i, l'euro. Qualsiasi. La Finna. Grazie a tutti.